Flora Canto non ci vede più dalla rabbia e in effetti perde pazienza e dice qualcosa di molto forte contro di lui. Nato nel 1983, Flora Canto iniziò la sua carriera ancora giovane nel mondo dell'intrattenimento partecipando al Grande Fratello. Per qualche tempo è stato anche presentatore di Temptation Island prima di essere sostituito dall'attuale direttore Filippo Bisciglia. Durante la partecipazione a Uomini e Donne, aveva iniziato una relazione con il pozzerese di tronista Francesco. La loro storia si è conclusa dopo due anni. Alla fine arrivò l'amore della sua vita. O il comico Enrico Brignano e anche i due avevano una figlia. Ora la donna ha perso la pazienza e scrive Schiff. Flora Cantare perde pazienza. Flora Canto si è molto arrabbiato per la recente storia che ha visto. La soluzione una 60 anni dall'accusa di molestie perché secondo il giudice quell'atto non poteva essere considerato una violenza che durava meno 10 secondi. Arrabbiato. Flora Canto ha scritto in una storia su IG caro giudice che hai emesso questa frase. Spero che la tua coscienza non ti faccia dormire per i prossimi 50 anni. Inoltre. Spero che tu non abbia figlie che potrebbero essere molestate e tentate per 9 seconds. Sciame. Fai schifo. Dovrebbero sbarazzarsi del registro o qualsiasi altra cosa. Flora Canto interviene la controversia con Mario Forte questa settimana una controversia a coinvolto Enrico Brignano. Il cantante Mario Forte è stato molto influenzato da un commento fatto dall'attore sotto il suo post. In cui lo chiama pattute. Tuttavia. Sembra che in realtà il profilo del comico sia stato violato. Flora Canto ha detto sui social media. Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è successo. Ma Enrico non ha mai scritto quel commento. Immagina che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere un ospite sannino. Perché amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti. Quindi non appena avremo capito cosa è successo e se hanno violato il suo profilo sarai il primo a. Sapere. Ha anche aggiunto. Ti mando anche un video e spero che tu lo veda immediatamente. Enrico ha fatto un lungo viaggio oggi e sta fermando in Spagna. Non assolutamente ha conoscenza di ciò che è accaduto e chi sta scrivendo ora appunto per dirti che nulla. vero e amiamo follemente la musica napoletana. Lo mostri il fatto che ho avuto sannino come sorpresa al mio matrimonio. Ma soprattutto siamo innamorati di Pino Daniele. Di tutto ciò che è napoletano a Ischia. Quindi mi dispiace. Enrico e io stiamo cercando di capire cosa potrebbe essere successo. Non so se hanno hackerato il profilo e penso così. Non avrei mai scritto una cosa del genere. Come non avremo notizie al riguardo. Ti faremo sapere.